l'ultima creatura del manga di Yonem il cofonato non l'ho corretto perchè non ho un po' di rete lo creerò ok allora mi sono mettati un po' con la sciambazza questo è scoperto di Yonem ok il mio primo volume da che in mezz'ora se non lo ho corretto da che lo ben di lato in mezz'ora ok iniziamo ah beh buttano si ok un po' di 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 qui un po' di Grazie a tutti. Grazie a tutti.